Tutti gli esponenti che abbiamo sentito parlano di rifugiati, di siriani, di persone che scappano dalla guerra. Nell'ultimo anno in Italia sono arrivati 170.000 persone, più di 100.000 sono sparite letteralmente, non si sa dove siano andate, possono essere alla Mezzaterme, a Bari, a Palermo, come ad Aosta o a Milano. Sparite più di 100.000, quindi non sappiamo se fossero richiedenti asilo, perché non l'hanno chiesto, quindi non lo sono, semplici clandestini, adesso si chiamano migranti economici, insomma, una situazione nella quale non c'è alcun controllo delle persone che entrano. Degli altri 70.000, 40.000 hanno chiesto tutto il procedimento per accedere allo status di rifugiato. Alcuni avranno questo status riconosciuto, altri non lo avranno. Tutti gli altri sono clandestini, quindi l'Europa sta parlando di rifugiati, di siriani. Punto.